La Francia è pronta a firmare un accordo per la fornitura di armi all'Armenia per garantirne la sicurezza. Questo è stato il messaggio lanciato dal ministro degli esteri francese, Catherine Colonna, durante la sua visita a Yerevan. Il ministro ha anche incontrato le vittime armene ferite dall'esplosione di un deposito di benzina mentre fuggivano dal Nagorno-Karabakh. Parigi ha promesso all'Armenia un sostegno continuo. La maggior parte dei residenti di etnia armena è fuggita dalla regione temendo rappresaglie dopo tre decenni di dominio separatista. Il primo ministro dell'Armenia e il presidente dell'Azerbaijan si incontreranno il 5 ottobre nella città spagnola di Granada per cercare di lavorare a un trattato di pace che ponga fine a oltre 30 anni di conflitto.